Ragazzi, la partita è su Dazon, non aggiungo altro. A Milano c'è il sole, qua sul mare in Toscana piove. Che robbia! Qua l'agapeggio di FIFA, quindi, fate voi. Ve lo dico adesso, Scamacca, secondo me, nel culo ce la butta. C'è un sonno, mi sono alzato adesso per vedere la partita. Ma io mi raviglio che la Lega Serie A continua a fare i contratti con sta merda chiamata da Zon. Cioè, ma è un furto di soldi! Gigi, Ternandez, Tomori, Kier, Kalulu, Benazer, Kessi, Rebic, Celeano, Luzerime, Kersel, Davanti, Perin. Difesa 3, Masiello, Radovanovic, Goldaniga, Cassata, Strootman, Badelli, Zaic, Ghiglione, Scamacca e Destro, Davanti. Capito, ragazzi? Nelle ultime sei partite... Mi ha fatto due punti, eh, San Siro. Si inizia. E rilaga. Rilaga! Stefallo, eh, cioè, nel senso... C'è la tua rimessa laterale, Ghiglione, ma questo è fallo! E gli ha anche restituito la palla. Teo, ho bisogno di te. Teo, dove sei finito? Dov'è finito il Teo? Qui ci eravamo abituati fino a gennaio. Dov'è il terzino più forte della Serie A? Dov'è finito? Dal 2004 nessun difensore partecipa attivamente a dieci gol diversi come Turnhans, tra gol e assist. E da quel che ha detto mi sembra che abbia fatto cinque gol e cinque assist in stagione. Scamacca con Calulu, ragazzi. Per mettere Ulca con Chiricu. Pudello di tu madre! Io la carta di FIFA di Donnarumma l'avrei fatta molto semplice. 99 riflessi, 99 presi, 99... Uno rinvio. Proprio non ci siamo. Teo, ragazzi, no! Il passaggio a metro non ha fatto lo stop. Questo è giallo. Questo è giallo! No! È bellissima per Salem Makers. Salem Makers. Questo è fallo. Questo è fallo. Non mi dire che Benazer o Cialanoglu calciano da tipo 25 metri in diagonale. Perché non ci credo. Matteo. Ha ammazzato qualcuno in barriera? Reppic! Ma che gol ha fatto! Madonna che gol. Madonna che gol, ragazzi. Ma che gol ha fatto! Ante Reppic! Ma questo va negli annali! Ragazzi! Ma che gol ha fatto! C'è! Fuoco! Madonna! Intanto Strootman è morto perché è stato tipo colpito da una mega pallonata. Ha fatto un gol, ragazzi! Oddio! Però ragazzi prossimo anno qualche giocatorino di esperienza io lo prenderei. Leao! 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 Scivola! Scivola! Scivola all'ultimo! Scivola all'ultimo! Rò tu per tu con Perin! Qua Masiello anticipa elementarmente Calulu. Calulu sveglia! Ma buttiamo il pallone in rimessa laterale così come se proprio ce ne fregasse un cazzo! Il generale non ha ancora tirato in porta. Però sta facendo vedere che almeno ci vuole provare. Fallo! 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 Fallo di Cianoglu cosa! Leao! Cazzo duro! Cazzo duro! Cazzo duro! Guarda! Guarda Franchino! Guarda! E si incarta! Allora Leao! Il tanto fenomeno che osennate ha avuto due chiare occasioni. Una è scivolata, l'altra si è incartato. Che sì, era lì da dieci minuti che aspettava la palla e non gliela ha data. Il tanto grande Leao che ammirate. Non è che si è fatto un gol a Parma allora ragazzi. Leao! Ha fatto un gol a Parma su contropiede e ha fatto il suo dovere perché era uno contro uno. Volevo vedere se sbagliava pure quello. Mi ricorda molto Robigno ecco. Ragazzi come è figo Ballardini col completo. Con gli occhiali da sole. Ma tipo... Una via di mezzo tra un consulente finanziario e un porno attore. Cioè non saprei come definirlo Ballardini. Però secondo me è un grandissimo allenatore. Penso la bella botta. Adesso viene la cura agghiaggiande. Che è la cura con ghiaccio. Principalmente quella. Che era applicata la bomboletta fredda sulla botta. Destro attenzione. Donnarumma. E destro la liscia. Fuori gioco. Kier da solo. Da solo. Butta la rimessa laterale. Così. Perché mi andava. Bella per Ante. Bella insomma però ok ci siamo. Rebic. Bella per Leao dentro ma c'è Masiello che chiude. Problema è che Salema Kers ragazzi ha un fisico di uno che non mangia da quattro mesi. E' quello il problema. Ma a gol di Genoa. Ma ancora destro. Io non ne ho. Cioè ha fatto tre gol in due partite al Milan. Non ho parole ragazzi. Difesa ferma. 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 Tomori. No. Qua è Tomori. Si perde destro che colpo di testa porta sguarnita. Non so stanno. Non è nemmeno e mezzo. Basta angolarla un pochino. Un altro gol da pala inattivo ragazzi. C'è da darsi una regolata però. Un altro gol da pala inattiva. Ha superato la metà campo tre volte il genere ragazzi. Adesso andiamo a fare i cross. Inutili. Come se fossimo al novantesimo. Ci vediamo nel secondo tempo. Intervista nell'intervallo di destra. Eh si si l'abbiamo preparata bene. L'ha preparata bene sempre contro di noi eh. Mamma mia. Kalulu. Rebic. Ha calciato in curva da un metro. Io non ci voglio credere ragazzi. Mi fai un gol al volo da 20 metri. Mi sbagli nell'area piccola. Dazon che lagga. Milan che gioca di merda. Che sbaglia gol. Mi è toccato mettere la MotoGP e rimettere la partita. Cioè ti rendiamo conto? Però la MotoGP va tranquillamente. La MotoGP ragazzi. Qua lagga. La MotoGP ragazzi. Come se ti corressero davanti. Leao. È la tua occasione. Radovanovic in scivolata. Nooo. Salema Kertz che palla elementare. Qualca l'uomo fa fallo. E perdiamo un'altra occasione. Ci rendiamo conto che Radovanovic ha avuto il tempo di girarsi e recuperare Leao. Rebic si ma che fai punti a saltare l'uomo. Non sei su FIFA che puoi saltare cinque uomini con una skill. Salema Kertz. Ciala. Cosa tiri? La mina da lì. Sei a cinque metri alla porta. Sei. Che sì. Non tirare. Tira. Piazza. Salta. Salta Kier. I nostri calci d'angolo escono di così. Noi non lo so ragazzi. Boh. Manzukic. 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 Finalmente Manzukic per Leao. Altro quattro. Altro errore di merda. Basta. Ma a noi un contropiede. Un gol da pare attiva. Non riusciamo a farlo? C'è proprio. Capire di merda che c'è che si. Pare un montone. Manzukic. Andiamo. Tu mori. O Manzukic. Mario. 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 Allora. Scamacca. Autogol di Scamacca. Beh dai. Avevano detto che Scamacca sarebbe stato determinante per questa partita. Hanno avuto ragione. Peccato. Volevo il gol di Manzukic. Chi di calcio d'angolo ferisce? Di calcio d'angolo ferisce? Buono. 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 Buona questa gestione. Buona questa gestione. Calmi. Calmi. Rebic. Madonna. Cosa ha preso Perin? Bel gesto di Rebic. Questa volta gli faccio i complimenti. Il bel gesto di Rebic. Così proprio alla Ibra. Scamacca. Scaccolati. Vai. No. Piazza. Alto di poco. Ragazzi. Vi prego. Portiamocela a casa. Con un autogol. Bella lettura di Dalot. Masiello. Masiello. Merami. Tu mori. Dai. Contropiede. Dalot. Dalot. C'è Diaz. Dagliela. 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 Dalot. Madalabra in Diaz. Entra Krunic perciò la Noglu. Bel cambio. Bel cambio. Difensivo. Bel cambio. Cioè. Noi stiamo vincendo per ora con due gol loro. Tre minuti di recupero. Ragazzi. Tre minuti. Tre minuti di recupero. Comunque. Avete notato che Perin con i capelli così con la faldina sembra Marco Giordano? Isaprovi della mia teva. Buono. No. Masiello. Tomori. Tomori ragazzi. Ok che ha sbagliato sul gol la marcatura sul destro ma. Tomori come ne ha fatto fare uno non ne ha fatto fare un altro. Diamo. Dai. Fanno più gol loro ma vinciamo noi. Subito a fare il video.